Buonasera a tutti. Con questo post vogliamo informarvi che sabato 7 e domenica 8 maggio, dalle 11 alle 23 circa, potrete trovare Erboristeria Symbiosis sul listone di Piazza Trento Trieste, in occasione del primo Vegan Festival Ferrarese. Un festival vegano aperto a tutti, per conoscere e avvicinarsi ad un'alimentazione e ad uno stile di vita sano oltre che etico. Un evento organizzato sia per chi è già vegano, sia per chi, pur non essendolo, è comunque curioso di saperne di più. Per tutto il weekend potrete gustare ottime specialità vegane, dalla colazione alla cena, preparate dai ristoranti nell'apposita area vegan food e visitare l'area espositiva dove potrete trovare il nostro stand marchiato Erboristeria Symbiosis, oltre a numerosi altri espositori. Ci sarà inoltre una struttura dedicata a workshop, conferenze, seminari e cooking show. L'evento è totalmente gratuito, compresa la partecipazione ai seminari, a cui si richiede una semplice prenotazione. Vi aspettiamo numerosi, venite a trovarci! Un saluto da Erboristeria Symbiosis Lab. Grazie a tutti